Una vera e propria catena solidale sta avvolgendo i dipendenti della Ceuti di Casale di Vercelli, il cui posto di lavoro è a rischio dopo la paventata ipotesi di fallimento conseguente al blocco delle attività produttive deciso dalla proprietà. Mentre prosegue ad oltranza il presidio dei lavoratori in via Adam, un messaggio di solidarietà è stato portato dal Vescovo Gianni Sacchi, che ha condiviso con loro il pasto e un momento di preghiera, secondo il Vescovo, essenziale per rimettere in moto la macchina. Dalla Chiesa un appoggio concreto iniziato con la distribuzione di pasti caldi, per iniziativa anche della parrocchia di Oltreponte. Questa mattina poi c'è stata Lampi di Casale a loro fianco, sottolineando l'articolo 1 della Costituzione che afferma che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, rimarcando quindi i diritti di ogni cittadino di essere tutelato in tal senso. Invece qui 130 dipendenti rischiano il posto, hanno spiegato i responsabili dell'Associazione Partigiani, andando ad aggiungersi agli esuberi dell'anno scorso. Quasi 300 famiglie sono state e saranno toccate, una crisi alla quale le organizzazioni sindacali stanno cercando di porre rimedio, operando per individuare qualche manifestazione di interesse per acquisire la New Co., oltre ad ulteriori ammortizzazioni sociali, con l'urgenza di salvare l'azienda dal falimento. Per far questo, dopo l'incontro fra le parti tenutosi in regione alla presenza dell'assessore al lavoro Elena Chiorino, l'ultima carta salvezza verrà giocata presso i Ministeri dello Sviluppo Economico del Lavoro, per evitare soprattutto il confluimento dei dipendenti dentro il falimento, senza una copertura dal punto di vista delle ammortizzazioni sociali, tutelando nel contempo anche un marchio storico dell'economia italiana. In attesa di futuri eventi, la mobilitazione dei dipendenti continua, cercando di sensibilizzare istituzioni e popolazione, lanciando idee per rendere la protesta sempre più incisiva. Questa mattina, davanti all'incontro con Ampi, sono stati distribuiti volantini, dove il grido d'aiuto emerge rimarcando che la Ceuti è l'ultima realtà industriale della zona, che non può e non deve seguire nella sorte di altre del passato, che non sono state salvate. Nel volantino vengono evidenziati il bisogno di solidarietà di tutti, l'urgenza di risposte da parte delle politiche, perché ormai non c'è più tempo da perdere. Tra 13 giorni, 290 persone potrebbero rimanere a casa, senza quelle soluzioni che devono essere trovate tramite un tavolo urgente al Ministero. Lunedì 8 marzo, in programma un'iniziativa dedicata alle donne, che rappresentano buona parte delle maestranze, voluta particolarmente dai sindacati, che con le nuove norme contenute nel nuovo contratto metalmeccanici, hanno dimostrato sensibilità per i loro diritti. Insomma, tutti uniti per salvaguardare anni di sacrifici, un obiettivo comune per tutti i lavoratori e per chi quella azienda l'ha creata 100 anni fa, e che avrebbe voluto festeggiare l'anniversario in un altro clima. Purtroppo, gli eventi non l'hanno permesso.